ciao sono michela mitrani e questo è credi crea il podcast che vi aiuta a produrre pubblicare e pubblicizzare indipendentemente le vostre opere in questo podcast intervisto creatori imprenditori ed influencer allo scopo di fornirvi le risorse e gli strumenti necessari per diffondere le vostre idee e vendere i vostri prodotti oggi ospito qui a credi crea l'autrice laura rocca laura è un indie che scrive fantasy urban fantasy paranormal romance e young adult è nel settembre del 2013 che decide di pubblicare un romanzo fantasy inizia così la stesura del primo volume delle cronistorie degli elementi il mondo che non vedi nel 2015 lo pubblica e nel dicembre dello stesso anno pubblica lo spin off a dan nel 2016 pubblica il secondo volume della saga le cronistorie degli elementi chiamato il regno dell'aria seguito dal regno del fuoco il regno della terra e dal regno dell'acqua laura benvenuta a credi crea e grazie per aver detto di sì a questa chiacchierata grazie mille a te per avermelo chiesto è un piacere carissima raccontaci un po della tua esperienza nel mondo del self come è iniziato il tuo viaggio nell'editoria indipendente e dove ti sta portando allora il mio viaggio è iniziato appunto a luglio 2015 con il mondo che non vedi e io avevo preventivamente creato un blog su wordpress dove appunto parlavo di un'altra mia passione e pubblicavo un romanzo a puntate ambientato nell'epoca vittoriana per testare un po il mio pubblico vedere se le persone apprezzavano il mio modo di scrivere in questo modo mi sono creata una base di pubblico che era già interessata a me come scrittrice e queste persone che poi si sono affezionate seguivano il mio blog ed erano interessate anche ai post personali eccetera quando ho pubblicato il mondo che non vedi hanno immediatamente acquistato il libro perché volevano leggere qualcosa di mio ed è stato molto bello e gratificante come impatto iniziale perché io non mi sarei mai comunque aspettata di pubblicare un libro fantasy da persona sconosciuta e ritrovarmelo in classifica accanto a libri come Shadowhunters e Harry Potter è stata una cosa per me è una sensazione strana perché quelli sono libri che tu hai letto tutta la vita sono delle icone e tu poi ti trovi la copertina del tuo accanto e dici wow come è possibile tutto questo e poi appunto è successo che evidentemente essendo appunto salito in classifica grazie comunque all'acquisto iniziale di un pubblico già formato diciamo altre persone poi lo hanno notato e si sono interessate e adesso insomma mi ritrovo tanta gente che mi scrive, mi chiede e ancora mi sembra impossibile cioè io non sono ancora nell'ordine delle idee che ci siano persone che vogliono sapere quando pubblicherò il seguito piuttosto che mi scrivano perché vogliono conoscermi insomma mi sembra ancora strano se devo essere sincera è stato particolarmente bello vedere anche crescere il seguito di libro in libro perché avendo più o meno una cadenza regolare essendo che si tratta appunto di una saga è stata mia cura anche darmi comunque sempre un certo ritmo per fare in modo di non trascorrere magari due anni tra un libro e l'altro perché giustamente poi sparisci, le persone vedono che non escono mai seguiti e magari si domandano quanto mi toccherà aspettare invece dando una cadenza regolare tu comunque sia incentivi le persone a darti fiducia posso chiederti questa cadenza qual era? pubblicavi uno ogni sei mesi, ogni tre mesi? all'incirca ho fatto uscire un libro ogni sei mesi tra il mondo che non vedi a Regno dell'Aria c'è stato in mezzo lo spin-off su Island che inizialmente avevo deciso di pubblicare un volume e uno spin-off poi mi sono resa conto che comunque le persone avevano a cuore di poter leggere il seguito della saga e di conseguenza ho deciso di accantonare gli spin-off e pubblicare appunto direttamente i seguiti e poi semmai gli spin-off verranno dopo con calma magari anche a seconda dei gusti delle persone dei personaggi che preferiscono ecco insomma mi orienterò anche un pochino su quello per dare poi giustamente al lettore qualcosa in più su ciò che ha apprezzato di più dei miei libri Certo, quindi la continuità è stata una cosa molto importante non è che hai fatto aspettare un anno e mezzo, due anni, tre anni da un libro all'altro se posso chiederti anche dal secondo libro un po' e il terzo libro tutti quanti sono stati Amazon bestseller andavano in cima alla lista oppure hanno avuto una storia diversa gli altri libri della serie? No, sono tutti quanti andati in classifica appena usciti e addirittura dal Regno del Fuoco un po' che è il terzo libro io sono stata anche per uno o due settimane nella top 100 generale di Amazon Kindle tra i primi 20 posti non solo in fantasy quindi ma anche nella generale Quindi nella generale questo è un bel successo per il self-publishing italiano quindi se posso sommare intanto avevi un following all'inizio che quando sapeva di questo blog che ci hai raccontato che pubblicavi il libro è andato a comprare tra virgolette poi in massa il primo volume della saga e questo ti ha aiutato ad avere un certo tipo di visualizzazione di popolarità e dopo tu ovviamente non hai fatto passare troppo tempo come spesso succede al dottore hai pubblicato subito uno spin-off e poi aciclicamente in intervalli di qualche mese insomma hai pubblicato altre libri a serie e hai continuato a pubblicarli fino a quando questa serie poi sarà finita perché se non sbaglio mi diceva esalogia e hai continuato a mantenere questo modello di ripetizione quindi sì, sei mesi più o meno intorno ai sei mesi al libro diciamo questo si riaggancia alla prossima domanda che volevo farti che oltre ad aver scritto delle storie di qualità ovviamente perché altrimenti le persone secondo me non si le leggevano storie di qualità a che cosa credi sia dovuto il successo dei tuoi libri? abbiamo parlato del following abbiamo parlato della fidelizzazione altre cose che secondo te sono state importanti per garantire il successo dei tuoi libri tuo punto di vista allora dal mio punto di vista il fatto che comunque sia ho creato un mondo a tutto tondo e soprattutto che mi sono preparata molto prima nel senso che comunque sia io prima ancora di iniziare a stendere il mondo che non vedi ho steso i riassunti di tutti e sei libri quindi io sapevo già dove avrei iniziato e dove sarei andata a parare dopo tre anni e questo quando una persona legge una saga così lunga così complessa perché io comunque ho inventato un mondo che non esiste dandogli regole comportamenti statuti eccetera eccetera se ci sono delle discrepanze lo vede immediatamente e è molto importante che il lettore trovi sempre i personaggi fedeli anche soprattutto perché poi io mi sono resa conto che sarebbe stato un lavoro lunghissimo perché sono passati tre anni ormai la vita ti cambia tu cresci ma il personaggio deve rimanere quello che è quando hai iniziato non puoi stravolgerlo completamente altrimenti le persone si ritrovano spiazzate inoltre penso che posso far riferimento magari a ciò che mi dicono più spesso le persone che poi secondo me il feedback è importante la capacità di trasmettere immagini con le parole il 90% delle persone che leggono i miei libri mi dice a me sembra di visualizzare in modo chiarissimo nella mia mente la scena piuttosto che il personaggio e il coinvolgimento emotivo che suscitano questo è un bel complimento questo è ciò che di solito mi scrivono privatamente le persone e comunque credo che se non sbaglio sia riportato anche su più recensioni su Amazon ed è molto gratificante perché comunque voler trasmettere un'emozione e sapere di esserci riuscito è bello ecco quindi anche gli elementi di successo sono il world building come lo chiameremmo qui in anglosassolandia cioè tu hai dedicato il tempo a fare in modo a fare in modo che il tuo mondo fosse believable quindi le persone potessero viverci dentro quindi hai creato un mondo in cui le persone di questo mondo possono viverci leggendo ovviamente le storie e poi hai fatto in modo di fare il lavoro o i compiti a casa nel senso non è che hai scritto un libro e poi non avevi idea di come andava avanti sapevi esattamente magari non esattamente al 100% ma avevi un'idea generale di come la storia sarebbe andata a finire cosa che io te lo dico per esperienza personale molti autori non sanno fanno un libro poi non sanno esattamente se avrà successo o no magari li costruiscono dal punto di vista invece tu eri preparata fino dal day one dal giorno numero uno esatto sì è stata la mia priorità ho detto ok io voglio narrare di questo mondo voglio parlare di questa storia ma voglio anche che sia perfetta cioè tutto deve quadrare alla fine io non mi posso ritrovare che arrivo al terzo libro e impazzisco e magari dico ho fatto morire questo ma mi serviva cioè per dire no non possiamo tornare dietro almeno che non so nel mondo degli elementi persone possano ritornare in vita ma non penso sia il caso in quel caso no non di solito diciamo non faccio resuscitare i morti ti ho capito va bene questa è una cosa interessante da sapere ottimo molto molto interessante Laura questo mi ha aiutato a fare l'identikit della tua storia del successo dei tuoi libri che voglio ricordare hanno venduto nel momento in cui stiamo parlando decine di migliaia di copie non sbaglio giusto? esatto sì decine di migliaia di copie che è un ottimo ottimo risultato per i self-abrici italiani e per le persone che dicono che il self-abrici è una scelta di ripiego fino a un certo punto quando cominci ad avere successo diventa una scelta quasi doppico quindi mi ha fatto piacere che tu abbia condiviso la tua esperienza adesso però Laura voglio un po' farti una domanda da destra sempre riguardante i tuoi libri ma una forma che i tuoi libri potrebbero assumere in futuro e ti faccio una domanda che ho fatto a molti self-publici italiani di successo che a un certo punto quando hanno successo con i loro libri si confrontano con una domanda sto nel dominio italico oppure vado ad invadere quello di anglosassolandia quindi la mia domanda è questa tu hai mai pensato di tradurre i tuoi libri in altre lingue e se sì come ti stai muovendo al riguardo ci ho pensato mi sono informata ho già scelto la traduttrice e persino l'editor quindi ho già scelto la persona che lo tradurrà e la persona che dopo occurerà l'editing del testo e diciamo che sarei pronta a partire il problema è più che altro finanziario ecco perché comunque come tutte le cose di qualità c'è un costo da sostenere e attenzione io non voglio dire che non sia giusto perché io mi rendo conto di cosa voglia dire tradurre un libro in italiano oltretutto che è una lingua complessissima se andiamo poi a paragonarla all'inglese di 640 pagine mi rendo benissimo conto di quanta fatica e impegno debba mettere una persona professionale nel fare un lavoro del genere e di quante ore di lavoro ci vogliono per cui io non sto discutendo sulla cifra dicendo che è sbagliata dico soltanto che è un po' alta per me e quindi insomma sto cercando di trovare un modo e spero di riuscirci ottimo questa è una cosa interessante però volevo chiederti sempre riguardante la possibilità di avere i tuoi libri in altre lingue tu c'è tipo un piano di marketing che stai seguendo e te lo chiedo per quando entrerai nel dominio di anglosassolandia te lo chiedo semplicemente perché ho intervistato autori italiani di successo però mi hanno detto guarda io ci ho provato ma ho fallito nel senso che il dominio di anglosassoland è molto ma molto più affolato è più difficile e merce io volevo sapere se tu avevi una strategia particolare perché quando diciamo così abbandoni le sponde italiche ti trovi in un dominio che è completamente sconosciuto non so se tu hai una fanbase inglese volevo chiederti qual è la tua strategia se ce n'hai quando entrerai in quel tipo di mercato con i tuoi libri allora io intanto per iniziare vabbè io sono KDP in esclusiva con Amazon di conseguenza farò la stessa identica cosa all'estero e esiste una possibilità che qui in Italia non abbiamo nel senso che è un servizio che purtroppo in Italia non esiste ma su Amazon americano sì e hai la possibilità di pagare un tot e fare in modo che Amazon sponsorisi i tuoi libri tanto per iniziare quindi questa è una cosa che sicuramente farei questa è una possibilità che viene offerta soltanto a chi è appunto Kindle Unlimited mi sembra di poter dire con certezza ecco per cui se si vuole pubblicare anche su altri store non si può e poi sicuramente cercherei comunque sia di fare le stesse cose che ho fatto qui inizierei a prendere contatti con dei blogger cercherei di capire se sono disposti a leggere il mio libro e parlarne lo regalerei ovviamente perché quando si chiede a un blogger di leggere il proprio libro si regala sempre non si chiede mai di acquistarlo certo richiamiamo giveaway qui in Canada e anzi un passo precedente più importante è leggere il blog renderti conto di che persona hai davanti e capire come proporti a questa persona e soprattutto se il tuo genere rientra nelle sue corde perché è inutile mettersi a mandare a mail a caso magari a qualcuno che legge solo horror o qualcuno che legge solo fantascienza bisogna trovare la persona anche che è interessata al genere e soprattutto è importante come ci si rivolge e non si deve mai mandare il libro allegato nella mail si manda sempre dopo che la persona ti dà il suo benestare per una questione di rispetto e mi sono resa conto che è una cosa che qua in Italia per me ha funzionato molto bene perché non ha mai rifiutato nessuno di farmi una recensione o comunque sia di farmi una segnalazione sul suo blog o sito l'educazione è sempre importante certo trovo quello che hai detto molto interessante e mi ricollega alla domanda di prima quindi alle strategie per pubblicizzare il tuo libro quindi se possiamo tornare un attimo indietro tu nella fase iniziale di sponsorizzazione del libro hai mandato il tuo libro a diversi blogger come esattamente come ha funzionato quella cosa lì e come secondo te ha beneficiato la tua saga allora avendo diciamo appunto anche io un blog su WordPress e avendo un seguito avevo anche diciamo delle seguaci che erano già appunto book blogger ecco come le chiamereste da voi immagino erano book blogger e di conseguenza ecco loro me l'hanno chiesto addirittura cioè per prime nel senso appena pubblichi il tuo libro non vedo l'ora di leggerlo quindi è stato piuttosto immediato con loro mentre con le persone che non conoscevo ho fatto appunto questo procedimento ossia sono andata a cercarmi dei blog che trattassero fantasy o li ho un po' guardati per capire appunto che tipo di persona avevo davanti mi sono informata eccetera e dopo di che ho mandato una mail scrivendo ciao ho visto il tuo blog mi piace molto volevo sapere se saresti disposta a leggere il mio libro piuttosto che segnalarlo te lo invierei gratuitamente e insomma questo più o meno questo tipo di cosa ecco posso chiederti come hai trovato questi blog semplicemente su google oppure hai trovato dei booktubers su youtube google è il tuo miglior amico quindi ovviamente quando non sai una cosa scrivila su google quindi hai fatto google tipo recensori fantasy italiano che cosa hai fatto no ho cercato appunto blog sui libri e dopo di che mi sono guardate i risultati ho scelto diciamo tra quelli che mi piacevano di più un'altra cosa importante è anche iscriversi nei gruppi facebook dove si parla di libri e dei blog sui libri perché anche in quel modo hai la possibilità quando magari appunto i proprietari del gruppo lo concedono di sponsorizzare il tuo libro alcuni fanno giornate a te ma altri hanno un tema giornaliero insomma poi sempre nel rispetto e nell'educazione ecco spammare non è mai ben visto secondo me non è mai una mossa giusta perché dai fastidio non susciti nessuna curiosità certo quindi anche gruppi facebook blog gruppi facebook interessantissimo stai dicendo altro? farsene uno proprio è molto importante e soprattutto allora io ho fatto un gruppo esclusivo per gli etuli della mia saga che si chiama le cronistorie degli elementi ed è su facebook non ho mai tirato dentro persone tutta la gente che si è iscritta sul mio gruppo è gente che è interessata esclusivamente ai miei libri non faccio fare pubblicità non faccio fare spam niente del genere quindi non mi ritrovo iscritte persone che vogliono sponsorizzare i propri libri e alle quali dei miei non importa assolutamente niente che vengano solo per il mio non è un gruppo grande perché è un gruppo che conta quasi 450 membri però se tu pensi che è un gruppo di persone che leggono solo i miei libri è tantissimo sono solo lettori appunto della mia saga e oltretutto se poi vogliamo proprio essere ancora più specifici diciamo che il genere che va di più poi sul mercato non è certo il fantasy young adult ma è il romance e di conseguenza io insomma sono molto felice di avere 450 persone così affezionate che si sono iscritte da sole prendendo il link dal mio libro perché io poi nei file diciamo che carico su kindle inserisco la pagina dei social e di solito in fondo al libro magari scrivo se vuoi ricevere notizie in esclusiva eccetera eccetera puoi iscriverti al gruppo link e le persone lo fanno in automatico insomma è una bella risposta ecco ottimo hai trovato quindi la tua niche la tua nicchia il fantasy young adult e adesso sono le persone a trovare te non tanto tu che trovi loro questa è una cosa anche interessante e da sottolineare quando si scrive un libro che aggiunge un valore per il following è una cosa che ti ritorna come un boomerang però dal punto positivo cioè non ti ritorna in faccia ma ti ritorna dal punto di vista di influenza di recensioni anche di copie vendute questa è una cosa molto interessante che abbiamo sottolineato per quanto riguarda la storia di Laura Rocca e dei suoi libri ora voglio chiederti carissima se tu hai dei progetti in cantiere o dei libri addirittura d'arrivo sì due uno è il regno del vuoto che sarà il libro conclusivo della saga dove diciamo tutte le vicende troveranno un loro perché e finalmente i miei lettori saranno felici di sapere cosa ho deciso di fare io non ti sto vedendo ma immagino che stai sorridendo guarda il sorriso dicono che sono molto cattiva quindi insomma vedremo se alla fine saranno felici e poi invece c'è un altro libro che uscirà questa primavera spero nel mese di maggio non ho una certezza indissolubile un po' perché ci stiamo lavorando molto sopra perché ci tengo tantissimo un po' perché ho avuto dei problemi personali io perché purtroppo in questi giorni sono morti due dei miei furetti e di conseguenza non sono felicissima e allora sono un po' lenta ecco spero che mi passi però maggio sicuramente penso che uscirà il libro è un romanzo rosa contemporaneo e parla di una storia molto particolare perché parla di una ragazza obesa il motivo per cui ho deciso di scrivere questo libro principalmente è quello che che mi sta più a cuore di riuscire ad aiutare qualcuno che magari si trova nella stessa situazione nella quale sono stata io perché io sono un'ex obesa e possa trovare magari non lo so uno stimolo per cambiare oppure sentirsi meno solo e magari forse riuscire anche a capire che alcune cose sembrano impossibili e invece non è detto che sia così e ho deciso di scegliere rosa contemporaneo perché comunque è un genere appunto più diciamo letto e soprattutto perché io poi non sono assolutamente nessuno quindi il libro sulla mia storia non credo che potrebbe interessare come quello di Lali Belasi ecco e di conseguenza preferisco parlare di un personaggio e ho fatto una cosa che mi ha reso molto felice che è quella di coinvolgere i miei lettori ossia prima di iniziare a creare il personaggio di Kat che è la protagonista ho attivato sul mio sito un link per un questionario anonimo a questo questionario hanno risposto in tantissime persone non me l'aspettavo sono molto onorata della fiducia che mi hanno concesso queste persone rivelandomi così tanto di loro stessi e di quelli che sono stati i loro disagi piuttosto che le loro vittorie e mi hanno aiutato tantissimo a delineare un personaggio che avesse moltissime sfaccettature e di questo sono veramente felice perché io poi non volevo parlare di me io volevo parlare di un problema certo e di conseguenza mi entusiasma molto l'idea appunto di proporre un personaggio che comunque non è la solita ragazza magari che pensa di essere brutta ma è bellissima e la vogliono tutti Kat ha veramente un problema ed è obesa e niente ciò che spero ecco è comunque di trasmettere un messaggio positivo e anche magari di far rendere conto alle persone che non hanno mai avuto questo problema che cosa vuol dire sentirsi così perché è anche importante comunque l'aiuto di chi ci sta vicino quando affrontiamo un momento del genere e è bello che magari le persone si rendano si rendano conto che è meglio essere sincere e che capiscano ciò che vive una persona che è così diciamo è brutto da dire ma è che è così tanto magari in sovrappeso ecco perché poi non voglio dire assolutamente che io fossi diversa o inferiore dagli altri però è come mi sentivo poi io non penso che le persone in sovrappeso siano diverse o inferiore dagli altri però io mi sentivo così sto parlando di me stessa non di non di altre persone ecco certo e insomma mi mi renderebbe felice se questo libro aiutasse veramente qualcuno oltre che comunque magari far leggere a una persona a camera romance una bella storia d'amore certo sono sicuro che comunque questa componente personale aggiungerà spessore al libro e sono sicuro il tuo following saprà apprezzare sicuramente quindi ti ringrazio per aver condiviso i tuoi prossimi progetti quindi anche i libri addirittura d'arrivo ora volevo chiedere l'intervista con la domanda dove possono trovarti i nostri ascoltatori i ascoltatori mi possono trovare sul mio sito che è laurarocca.it su amazon basta digitare nel campo di ricerca Laura Rocca o le cronistorie degli elementi e mi si trova immediatamente mi possono trovare su instagram su facebook è la pagina Laura Rocca autrice ho un gruppo facebook che si chiama le cronistorie degli elementi però prima di fare domanda per entrarci magari sarebbe meglio avere letto almeno uno o due libri giusto anche per non trovarsi completamente spiazzati anche se non ho mai rifiutato nessuno anche chi non aveva mai letto niente ed era curioso di capirci qualcosa di più su twitter ma non lo uso molto se devo essere sincera perché avrai capito che io sono una persona prolissa non ti bastano pochi caratteri per esprimerti ho lo stesso stesso peccato da parte mia carissima allora Laura ti volevo ancora una volta ringraziare per il tuo tempo e come faccio con tutti i miei intervistati augurarti un titanico in bocca al lupo a te e a tutti i tuoi progetti futuri grazie infinite e crepi grazie a Laura per averci dedicato un po' del suo tempo se avete tratto valore da questa intervista come sempre recensitela su iTunes e segnalate questo podcast Credi Crea basato su self publishing scrittura e promozione editoriali insieme a marketing ad amici e conoscenti grazie e ci vediamo il prossimo mercoledì grazie a tutti